È una specialità culinaria che affonda le radici nel passato. Plutarco sosteneva che già i sumeri e i babilonesi conoscessero il tartufo, un fungo che vive sottoterra, gioiello dei nostri boschi e delle nostre tavole. Proprio al tartufo è stato dedicato un convegno e una festa nei giorni scorsi a Caprino Veronese, un'occasione per riscoprire, o meglio, apprezzare questa specialità. Questa festa deriva dal fatto che la natura proprio del territorio, la conformazione del territorio, abbia una maturazione che va dai mesi di luglio, agosto fino a novembre. Quindi quando nel resto d'Italia è quasi terminato completamente il tartufo nero estivo, qui si ha, ed è la fortuna anche che c'è ancora turismo e quindi tantissimi stranieri, in particolare tedeschi, ho visto anche da altri anni, acquistano e gradiscono questo tartufo che è con le maturazioni più tardive, quindi quando sta terminando il caldo, sono molto più profumati e hanno particolari caratteristiche organolettiche che rendono il prodotto ancora più gustoso. A Caprino abbiamo la fortuna di essere ai piedi del Monte Baldo, dove vi è una buona presenza, una buona qualità, ci sono otto delle nove specie di tartufo che vi sono sul Monte Baldo, compreso il Tuber e Stivun. Le istituzioni vi danno una mano, per esempio la comunità del Baldo, il GAL, vi danno una mano nella promozione? Allora, sicuramente nella promozione ci danno una mano, è chiaro che i fondi scarseggiano sempre, non è un periodo, ma però dal GAL all'Unione Montana, anche lo stesso comune, ci aiutano nella promozione.